Stiamo per salpare. Quando guarderete questo video, la Alex, che fino ad oggi è stata la nostra barca di appoggio, sarà già in navigazione nel Mediterraneo centrale. La Mare Ionio rimane sequestrata ormai da più di un mese e mezzo, ma noi dovevamo tornare in mare. Per continuare la nostra missione di monitoraggio e denuncia delle gravissime violazioni dei diritti umani che in questo momento si consumano tutti i giorni nel Mediterraneo per prestare il primo soccorso qualora dovessimo incontrare persone la cui vita è a rischio. Non saremo soli in questa missione perché ci congiungeremo anche alla nave DCI, all'Ancurdi e alla Open Arms in una flotta della società civile che torna ancora una volta in mare per continuare ad affermare quello che è giusto ma anche quello che le convenzioni internazionali impongono di fare.